I tempi lunghi del piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono soprattutto i comuni a incontrare le maggiori difficoltà nel varo dei progetti. Questa mattina per questo a Pescara un vertice in prefettura. C'era per noi Sergio Sciarra. SOS PNRR anche per i comuni della provincia di Pescara. L'osservatorio degli European House Ambrosetti ha fornito dati preoccupanti. Solo il 6% dei finanziamenti finora è stato speso. Solo l'1% dei progetti completato e il 65% dei progetti passa dai comuni che stanno avendo notevoli difficoltà per vedere realizzati i loro progetti. Il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo ha convocato i sindaci dei comuni del Pescarese proprio per approfondire le principali criticità. Oggi sarete anche all'ascolto dei sindaci dei comuni del Pescarese per sentire da loro quelli che sono le principali. Sì, è un confronto con loro, è un mettere a disposizione le condizioni tecniche sia della Prefettura e della ragioneria territoriale a loro disposizione. Il problema che abbiamo è l'accesso alla piattaforma Regis. Sono enormi le difficoltà di accesso alla piattaforma Regis, il sistema gestionale unico in cui vanno caricati passo dopo passo i singoli progetti del PNRR. La piattaforma viene definita cervellotica, le norme da applicare oscure e una volta approvati i progetti rendicontati, i finanziamenti tardano a essere erogati. La Prefettura di Pescara e la ragioneria territoriale dello Stato invitano a un approccio lucido e pragmatico per ogni singolo problema. Hanno costituito, come sta accadendo nelle altre province italiane, un presidio territoriale unitario, al fine di garantire tutto il supporto tecnico necessario alle amministrazioni locali alle prese con una vera e propria corsa ad ostacoli contro il tempo.